buongiorno mondo la sveglia non mi ha suonato sta disgraziata sono riuscita adormentarmi dopo le 3 di mattina e avevo messo la sveglia alle 6 non sta suonando il mio cellulare mi sta lasciando del tutto e va bene ho dato a mangiare le bestie puzzavo di cacca che hanno fatto una cacca ho dovuto pulire tutto tutto e ho buttato l'acqua per spazzare mi sono tutta riempito adesso mi sono fatta la doccia ho lavato i vestiti sto lavando anche la sua roba già che ci sono dopo stello è bello è bello ragazzi io preferisco questa vita in campagna con gli animali a meglio di pulire la cacca umana come faceva un tempo anche quelle lavoro ma vi assicuro che gli animali sono meno sporchi io avevo anche i maiali ed erano molto più puliti anzi sono molto pignoli i maiali non è come dicono va bene se vi va rispondete sì o no se no almeno un mi piace se vi va una diretta se no pazienza aspetterò quando c'è gente che mi apprezza per quel poco che c'ho altro gattino mangiato a posto devo guardare le lettiere ma no sono pulita credo adesso guardia guardo intanto mi sono voluto a fare una bella docetta solo che non hanno il fono qua e ora con i dolori che ho andiamo bene sì avevo già la febbre vabbè pazienza ciao mondo mi faccio mi sono fatta il caffè me lo gusto prima il dovere per gli animali poi adesso me lo gusto io oggi per colazione mangerò un mango a latte di soia e latte di di avena credo che opterò per latte d'avena e magari qualche cereale vegano che non ha zuccheri che io adoro bene ciao mondo fatemi sapere se vi va una diretta per fare quattro chiacchiere in padella ciao qui geni chiudo che vorrei chiudere chiu proverò sì ciao